Buongiorno ragazzi, nuovo video assaggi e si tratta della colazione, questa sono io appena sveglia no ok dai mi sono rinfrescata un po' per presentarmi nel video comunque sono queste ciambelle qui, in un vecchio video di cosa mangi in un giorno vi ho fatto vedere che ho assaggiato quella al cacao ma ora ci sono dei nuovi gusti, pistacchio e vaniglia che non vedo l'ora di assaggiare comunque queste donuts, queste ciambelle non sono fritte e sono senza glutine ottimo, iniziamo ma prima facciamo il caffè l'estate a me piace il caffè freddo e mi piace così senza il latte, è buonissimo non posso farne a meno, ne berrei più di una al giorno per quanto mi piace e non è così pesante come sembra e non ti lascia con l'amare in bocca dunque ormai è la mia bibita preferita a voi piace il caffè freddo? scrivetemelo nei commenti ed ecco il mio caffè pronto super buono amo questo caffè, è il mio preferito però solo questo tutta l'estate e forse anche d'inverno per quanto mi piace ma andiamo alle ciambelle, eccole qua, questa è la confezione e ora assaggiamo, si presentano così sono piccole assaggiamo quelle nuove inizio da quelle nuove inizio con la vaniglia con la bianca vabbè, tralasciando la mia faccia comunque non si capisce mi piace è buono passiamo ora con l'alpistacchio che ha un bel colore il mio colore preferito però però non è così buona come sembra perché non è quella artigianale non è il vero pistacchio no, assolutamente non è vero pistacchio no ovviamente poi devo riassaggiare quella al cioccolato perché non mi ricordo più che non è cioccolato è cacao comunque non mi ricordo più il sapore perché l'ho comprata solo una volta che anche questa è buona buono buono pure il cioccolato solo quella al pistacchio non mi è piaciuta ma ora andiamo qual è il mio preferito e qual è la classifica beh raga come si è capito il più buono è quello alla vaniglia si è abbattuto il cioccolato o quello a cacao comunque la classifica è primo posto vaniglia secondo quello al cacao amaro e terzo pistacchio che non mi è piaciuto per niente e bene raga questo è tutto il video siamo arrivati alla fine scrivetemi nei commenti se conoscete questa marca di ciambelle se l'avete provate e scrivetemi anche se vi sono piaciute e niente questo è tutto il video ovviamente le ciambelle che rimangono si finiscono non si butta via niente io ringrazio per aver visto il video fino alla fine spero che ti è piaciuto se si lascia un bel like e niente ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao